E' tempo di ampliare i propri orizzonti per la giovane pugile pesarese Valentina Marra, che nella giornata di mercoledì ha ottenuto l'importante sponsor di Battistelli Compressori. La ragazza, classe 2005, ha già prematuramente ottenuto numerosi successi, come i titoli di campionessa italiana Mondovì, campionessa europea in Georgia, l'Argento alla Junior Nation Cup in Serbia, ma anche altri premi. Valentina Marra, un giovane talento spinto da passione e determinazione. All'inizio mi colpiva, mi affascinava il fatto di menare, quindi ero abbastanza manesca e questo sport poteva aiutarmi a placare un po' questo lato del carattere. Secondo me capire i propri limiti è fondamentale, quindi in questo sport io riesco a capire innanzitutto i miei, a migliorarli e a superarli, perché tante paure le ho sbloccate grazie a questo sport. Crescita personale, oggi sponsorizzazione di Battistelli, quanto è importante per te, per la crescita individuale, anche per una manifestazione importante come può essere l'Olimpiade? Ma secondo me è importantissima. Sarà uno dei tanti tasselli, forse tra i più importanti, che mi aiuterà a raggiungere l'obiettivo. Otello Battistelli, da dove è nata la sua idea di sponsorizzazione per questo nuovo giovane talento? Io l'avevo letto sul giornale degli articoli, che c'era questa ragazza nel pugilato, voleva trovare qualcuno che dasse una mano, poi è bello, è scappato fuori, che è la figlia di un funzionario di una banca e chiude i rapporti di lavoro, e poi è nata un po' così, insomma, per me era una novità, anche se la boxa mi ha sempre piaciuto, a me non è che... è nata un po' così, insomma, niente di... Più che altro per conoscenza, per rapporti di amicizia, insomma, così nasce un po' questo discorso. Io, per la verità, non pensavo che si poteva sponsorizzare tipo come fosse una squadra di pallavolo o una squadra di calcio con la scritta di... è uno che fa il seu ring con una canottiera, e poi è nata un po' di discorso, capito, io non pensavo nemmeno che si poteva, poi dopo l'è un po' studiata la cosa e... ma speriamo che... adesso più che altro anche per la ragazza. A Pesolo ho avuto anche altri talenti, no? Talenti che hanno fatto anche le Olimpiadi, ma questa è una ragazzina che ha qualcosa di eccezionale, diciamo. Dipende da come verrà portato avanti il lavoro programmato negli anni, diciamo, senza ricorrere sempre il momento... si può vincere, si può perdere il pugilato, però si deve costruire la casa con delle buone fondamenti. Per arrivare in cima ci vuole molta fatica e grande preparazione. Grazie.